ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vi mostro come realizzo una delle mie maschere preferite ed è una maschera alla vena e camomilla che poi ovviamente potete personalizzare come volete si prepara come sempre in pochissimi minuti ed è subito pronta per essere applicata una volta applicata tenetela in posa per almeno 20 30 minuti e poi sciacquatela con acqua tiepida la pelle vi ringrazierà subito tantissimo ma andiamo a vedere come realizzarla dunque in una ciotolina vado a versare due cucchiai di avena preferibilmente se ce l'avete già frullata è meglio poi io aggiungo una bustina di camomilla e un quarto di tazza di acqua ma se non avete la bustina solubile utilizzate ovviamente il filtro realizzate la camomilla in acqua bollente e poi la versate nella ciotolina mescolo tutto molto molto bene anche nel caso della bustina solubile c'è bisogno dell'acqua calda la lascio riposare per 5 10 minuti in modo che l'avena si gonfi di camomilla una volta passati pochi minuti l'avena avrà assorbito tutta la camomilla e quindi se volete potete applicarla già così oppure se la volete più fluida la inserite in un mini frullatore e rendete la maschera appunto più fluida e niente con questo è tutto io spero che il video vi sia piaciuto lasciate un mi piace per sostenermi e se vi piace questo tipo di video iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto e non dimenticatevi di attivare la campanellina in modo da rimanere aggiornati ogni volta che carico un nuovo video nel canale e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao